Gli ambiziosi obiettivi europei di decarbonizzazione al 2030 e al 2050 rappresentano una sfida non solo per i decisori e gli operatori del settore, ma anche per i cittadini e i territori, che hanno ora a disposizione uno strumento innovativo per contribuire al raggiungimento dei target stabiliti, le comunità energetiche rinnovabili. Un modello che vede gli utenti finali del mercato elettrico, cittadini, amministrazioni locali e imprese del territorio sviluppare e gestire collettivamente progetti e servizi energetici, i cui benefici ricadono direttamente su di loro in termini non solo ambientali, ma economici e sociali. Lewis Business School e RSE hanno condotto uno studio che, oltre a tracciare una mappa delle prime esperienze di comunità energetica nel nostro paese, offre spunti e suggerimenti per il loro sviluppo. I risultati della ricerca sono state occasione di un ampio confronto nel corso dell'evento Community Energy Map, organizzato da Lewis RSE nella cornice di Villa Blanca a Roma. A spiegare il ruolo che le comunità energetiche possono giocare nel cammino verso la decarbonizzazione è Maurizio Delfanti, amministratore delegato RSE. Le comunità costituiscono una delle modalità con cui sviluppare la transizione energetica. È il modello che chiamiamo bottom up, che parte dal basso, parte dai territori, dalla coerenza territoriale, dalla volontà dei singoli cittadini e poi in via sempre più aggregata di costituirsi per autoprodurre l'energia che gli serve. Quindi noi cogliamo dai modelli che si sono affermati fino ad ora due livelli di beneficio. Uno è quello energetico che ho già citato, cioè aumentiamo la quota di rinnovabili nel sistema elettrico nazionale. L'altro è quello di coesione sociale e territoriale. Tutta questa evoluzione è ancora in fase prototipale, per cui dei modelli che abbiamo visto fino ad ora non ce n'è nessuno che scarterei per lo sviluppo futuro. Ce ne sono alcuni che sembrano più promettenti. Se pensiamo al fatto che nel ricepimento definitivo delle direttive si affermeranno dimensioni spaziali più ampie, non più limitate a perimetri di pochi chilometri quadrati, ma appunto dimensioni territoriali ben più larghe, allora lì possiamo vedere come il cointeressamento anche di realtà economicamente più rilevanti come piccole e medie imprese, sempre a partire da un concetto di coesione territoriale, possa secondo noi essere la chiave per avere uno sviluppo più ampio, più diffuso e più pervasivo sulla rete nazionale di queste forme di comunità. Per Matteo Giuliano Caroli, Associate Dean for Internationalization di Lewis Business School, perché le comunità energetiche possano sviluppare le loro potenzialità, occorre investire sulle competenze. È un contributo potenzialmente molto importante perché si innesta in un nuovo modello organizzativo complessivo del sistema energetico caratterizzato anche dallo sviluppo di iniziative, come si dice, dal basso e questo ovviamente integra poi la gestione dell'offerta di energia più tradizionale che ovviamente rimarrà assolutamente centrale. È una grande opportunità anche per le comunità relativamente meno centrali, un'opportunità di innovazione tecnologica e anche organizzativa e questo probabilmente è il nodo cruciale, lo sviluppo di competenze gestionali e tecniche negli attori che saranno coinvolti nelle comunità energetiche. Questo è l'elemento fondamentale, sono le competenze di chi gestirà le comunità energetiche, sono le competenze degli attori pubblici a livello locale che ovviamente interagiranno con le comunità energetiche, sono anche nuove modalità di competenze per gestire l'autoproduzione ma anche la commercializzazione di piccole quantità di produzione elettrica. È un nuovo modello, tra l'altro in Europa, in particolare in Germania, ci sono ormai delle esperienze consolidate che dimostrano che effettivamente questo modello integra, non potrà essere tutto comunità energetica anzi, ma è sicuramente un modello che integra il sistema complessivo di produzione dell'energia elettrica.